ok allora sono tutti i cazzi miei perché ho dei perk che non so usare ma ce la faremo lo stesso e non ho neanche rovina e oddio salve run ops ok ok non ho capito perché non hanno ancora iniziato sapevo che avevo lo sprint salve ok non credo che ti servirà molto agitarti così avrei potuto colpirlo quel disgraziato così lo vedevo ferito ma va bene qualcuno non se l'ha aspettato no problem grazie ok ok diciamo che funziona bene ok 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 ops Olé Allora Ah già, lei è quella che mi ti buggava, vero? No Ok Non mi ti buggate Quando vi sto inseguendo Non mi ti buggate, mi piace Non mi ti buggate Ciao 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 bello Ops Tu vai qua Lei ora non so se ce la faccio perché l'ho tirata giù però Olè E la domanda è a te, dove minca ti porto? Dove sei? È la vera domanda Ah eccolo Ciao Ok, grazie per essere andato più vicino al gancio dove ti dovrei appendere Ma dove non credevo di poter arrivare Se te ne stavi là non ti portavo da nessuna parte lo sai fratello Ma proprio zero Ciao No bet questa partita non ci ha fatto caso No, avete bettato Sì, l'ho fatto L'ho fatto il bet ragazzi Vabbè Vabbè, aspetta Vediamo un attimino Vabbè Perché per errore ho risentato Vi regalo i punti di questa scommessa Dai Bella questa build Compliments Ragazzo Pesce bu Con se il guccio lo ritrovi subito Bet all LOL